artigiani commercianti e cooperative pronti ai ricorsi sulle risorse a fondo perduto della regione molise si sentono penalizzate le attività piccole di periferia la riapertura tra le regioni sempre più vicina mercoledì della prossima settimana si potrà tornare a viaggiare i numeri del virus sono sotto controllo per l'edilizia occorre un cambio di passo dalla politica il centrosinistra chiede il pagamento alle imprese dei crediti e degli stati di avanzamento delle opere maggioranza e opposizione al comune di montenero di bisaccia sempre più ai ferri corti nessuna esclusione di colpi dopo l'ultima seduta svolta in videoconferenza un cordiale saluto dall'informazione dalla redazione di tlt iniziamo dalla cronaca rimane sotto sequestro l'area del centro di senologia all'ospedale veneziale di isernia gli investigatori avrebbero accertato la natura dolosa dell'incendio che ha parzialmente danneggiato i locali al terzo piano del nosocomio anche il vicino nido per neonati è stato evacuato dai vigili del fuoco chiamati a spegnere le fiamme la ricostruzione dei fatti è affidata ai carabinieri mentre con molta probabilità nel nosocomio sarà aperta una indagine interna sul grave accaduto di cronaca burocrazia lenta e difficoltà da cedere ai sostegni finanziari per le piccole e medie imprese le associazioni di categoria criticano la gestione regionale possibile ricorso al tribunale amministrativo da tempo ormai conf commercio molise casa artigianati conf cooperative e altri enti a sostegno dell'economia degli imprenditori criticano il sistema per accedere ai contributi regionali questi strumenti dicono non premiano la fattibilità delle richieste delle piccole e medie imprese soprattutto in questa fase di emergenza pandemica il settore imprenditoriale infatti ha subito gravi perdite buchi economici grandi e difficili ormai da chiudere in poco tempo per tale motivo proprio il riferimento all'ultimo avviso pubblico per le sovvenzioni a fondo perduto di piccola entità rivolto alle pmi sospese o con grave calo di fatturato con l'obbligo però delle stesse di dotarsi di dispositivo di firma digitale preoccupa ancora una volta poiché da un certo punto le piccole e piccolissime medie imprese artigianati non riescono ancora a dotarsi di tali strumenti per dotarsene dovrebbero infatti recarsi con urgenza alle sedi di campo basso e disernia delle camere di commercio già in crisi da diversi giorni per lo spropositato numero di domande pervenute considerati i tempi davvero troppo stretti tra la richiesta dei dispositivi digitali e le proposte delle piccole e medie imprese da inserire sul portale della regione si chiede quindi di poter rivedere i meccanismi di presentazione delle stesse evitando così una inevitabile corsa all'acquisto delle chiavette di firma digitale e reddendo quindi di conseguenza le procedure meno complesse più accessibili e incrementando semmai le dotazioni finanziarie dei relativi fondi in fase così critica la regione si legge dovrebbe essere ancor più sensibile alle richieste delle organizzazioni pertanto si legge ancora nella lettera bisogna adottarsi di un sistema più pratico e semplificato nella gestione di tali fondi scrivendo insieme alle organizzazioni di categoria le linee guida per i procedimenti equi ed opportuni le scriventi organizzazioni si legge in ultimo prendono quindi le distanze da queste procedure valutando anche al contempo l'eventualità di bloccare i due bandi attivati tramite ricorso al giudice amministrativo Angelo Primiani consigliere regionale del Movimento 5 Stelle raccoglie le proteste dei consulenti fiscali artigiani, commercianti e cooperative contro il click day voluto dall'amministrazione regionale per l'assegnazione di contributi a fondo perduto a titolo di indennizzo post-covid un meccanismo sbagliato, illogico e controproducente il parere di Primiani che penalizza le imprese che vivono in periferia o in montagna e rischiano la chiusura il Movimento di Opposizione annuncia una mozione in Consiglio regionale al fine di rivedere l'iter di presentazione delle domande e aumentare la dotazione finanziaria della misura cambiamo argomento sempre più vicina la data del 3 giugno per gli spostamenti delle persone da una regione all'altra il coronavirus sembra ormai sotto controllo Giungono dati incoraggianti dal Ministero della Salute l'indice di trasmissibilità in Molise non preoccupa i contagi sono molto limitati in ogni caso gli esperti continuano a raccomandare cautela specialmente nel momento in cui dovesse aumentare per frequenza ed entità il movimento di persone da una regione all'altra in vista dell'estate e negli assembramenti dinanzi i locali pubblici in Molise poi si registrano segnali di ritorno alla normalità negli ospedali pubblici quindi a partire da mercoledì 3 giugno ci sono le condizioni sanitarie per riaprire gli spostamenti tra regioni senza grossi rischi per il ritorno del virus la situazione appare fluida in molte realtà della penisola ma rimane necessario continuare a rafforzare la prevenzione per fronteggiare possibili recrudescenze della pandemia la situazione potrebbe essere ancora particolarmente caotica nel nord Italia Lombardia soprattutto secondo gli attuali indicatori ma il Molise sembra lentamente uscire da un incubo al quale è caduto dagli inizi di marzo Al centro di accoglienza dell'hotel Sayonara di Isernia i tamponi effettuati ad ospiti e operatori sono risultati tutti negativi la comunicazione dell'azienda sanitaria regionale ma è comunque necessario non abbassare la guardia e continuare ad osservare ogni azione per prevenire eventuali contagi ha dichiarato il primo cittadino Giacomo D'Apollonio L'unione sindacale di base si allinea con quanti in questi giorni propongono l'ospedale Vietri di Larino come la struttura sanitaria centrale per le cure da covid Nell'impegno a lottare per una sanità pubblica da salvaguardare e migliorare in Molise l'unione sindacale di base chiede fortemente che si individui subito il percorso che possa portare la trasformazione dell'ospedale Vietri di Larino in centro di ricerche per le malattie infettive e in struttura destinata alle cure per il contagio da covid-19 In questo momento la situazione è drammatica nel nostro territorio la sanità già era smantellata ma oggi ancora di più ci sono persone che non si riescono a curare il minimo indispensabile non si riescono a fare le cure necessarie proprio perché non c'è una struttura destinata ancora oggi per l'emergenza covid io credo che l'unica struttura idonea che si può prendere in considerazione per questa emergenza covid che tra virgolette non è allentata ma ancora è tutta in fase di attiva non possiamo tralasciare quindi penso che l'unica struttura idonea per fare un centro covid è appunto l'ospedale del Vietri di Larino perché l'unica struttura agibile in questo momento non si può caricare tutto sull'ospedale Cardarelli anche perché non ci sta solo l'emergenza covid ma ci sono altre emergenze ci sono persone che non riescono a curarsi con il minimo indispensabile gli ambulatori sono chiusi i reparti sono fermi e la gente ha paura di andarsi a curare il minimo indispensabile la gente muore di infarto non riesce a farsi le analisi il minimo indispensabile quindi io credo che bisogna riorganizzare la sanità i cinque ospedali che abbiamo nel nostro territorio devono essere destinati ognuno con una propria programmazione e innanzitutto bisogna anche rimettere i reparti che attualmente sono chiusi tipo l'ospedale di Termoli ortopedia, ginecologia che sono comunque al collasso la gente non riesce più a curarsi noi non mogliamo come USB staremo vigili e se c'è bisogno faremo altre proteste davanti non solo alla giunta ma davanti alle sedi opportune tirare in ballo anche il commissario in questo momento che si sta facendo soltanto tanta polemica e alla gente non serve Sbloccare gli investimenti a livello statale semplificare le procedure per ridare vigore al comparto delle costruzioni in Molise invoca il Partito Democratico è urgente sostenere il settore già in crisi profonda prima dell'emergenza e che ora senza liquidità rischia di collassare e generare un disastro economico e sociale occorre pagare con urgenza i crediti e gli stati di avanzamento che vantano le ditte nei confronti di regioni e comuni e poi accelerare finanziamenti e procedure per gli interventi cantierabili il PD sollecita il governo regionale di centrodestra affinché attivi forme di concertazione con le rappresentanze del settore utili a raccogliere proposte a sostegno del tessuto produttivo le condizioni di rilancio di Dolce Amaro l'azienda Isernina che negli anni ha conquistato l'apprezzamento per i confetti e le numerose specialità dolciarie sul suo futuro Michele ed Alessio ha intervistato il titolare Claudio Papa ascoltiamoli Claudio Papa questo momento così particolare è capitato a voi mentre era in costruzione l'ampliamento dell'azienda quindi un grosso investimento come vi state distreggiando e che potete fare per il futuro? Allora lo stabilimento è in costruzione quindi il raddoppio dello stabilimento è tuttora in costruzione perché praticamente nulla è stato fermato dell'investimento perché noi siamo assolutamente consapevoli che questa situazione dovrà dipanarsi diciamo a breve poi quello che il mondo sta mettendo in campo per quanto riguarda la scienza medica per combattere il coronavirus sicuramente darà dei risultati non a lunghissimo periodo perché insomma sa parla che già entro il 2020 troveranno il vaccino e le cure adeguate noi da imprenditori pensiamo sempre positivo quindi non stiamo facendo passare questo momento di crisi in maniera diciamo latente a noi anzi stiamo approfittando per poter ripensare l'azienda in chiave ancora più moderna ancora più digitalizzata facendo i conti però alle volte con delle problematiche oggettive perché per esempio nel nostro comune non ci passa la fibra quindi stiamo cercando di vedere da soli come trovare una soluzione perché poi a noi viene richiesto sempre di ammodernare l'azienda e fare sempre qualcosa di innovativo e poi però ci intoppiamo con delle situazioni che non dovrebbero riguardarci cioè questa dovrebbe essere una imposizione governativa che la nazione deve essere assolutamente pronta ad un modello digitale anche perché diciamo che anche il lavoro ha dimostrato che può essere svolto si può fare smart working in maniera importante ma ci devono essere le reti poi in grado di supportare praticamente questo flusso così importante di dati che deve muoversi in maniera rapida quindi noi continuiamo ad essere fiduciosi le banche credono in quello che noi stiamo facendo ci sono state sempre a fianco e lo stanno facendo anche in questo momento l'importante mi auguro che il governo non faccia arrivare gli aiuti a noi e anche agli altri fuori tempo massimo la regione in che maniera vi può essere vicini? noi la regione c'è stata sempre vicino come le dicevo prima praticamente ogni nostra iniziativa essendo sempre molto ponderata e piena di contenuti è stata sempre supportata oggi stiamo chiedendo aiuto per andare a parlare diciamo alla pari con il ministero perché noi l'investimento del raddoppio del sito è fatto con il ministero dello sviluppo economico e quindi dobbiamo andare lì a far presente che questa situazione del covid ha inciso a livello temporale con un ritardo perché praticamente noi siamo stati fermi per quasi due mesi e quindi adesso dobbiamo vedere se riusciamo a negoziare uno slittamento della chiusura dei lavori oltre il 31-12-2020 perché noi dobbiamo consegnare rendi contato il raddoppio dello stabilimento al ministero entro il 31-12-2020 il che con questo covid non è che sia poi tanto semplice raddoppiare un sito di 3.300 metri quadri in poco più di 8 mesi reali di tempo per la seconda volta consecutiva il consiglio comunale di Montenero di Bisaccia si è svolto in modalità telematica forte il disappunto della minoranza all'indirizzo del centro-destra alla sala polivalente del municipio in grado di ospitare anche più di 200 persone mentre l'intero consiglio comunale è composto da soli 13 componenti per i quattro consiglieri di opposizione l'ultima seduta consigliare da ritenersi legittima e per tale ragione hanno abbandonato l'aula il sindaco Nicola Travaglini infine è stato invitato a ripristinare lo svolgimento democratico del consiglio riaprendo la sala consigliare con le dovute prescrizioni per il contenimento dell'emergenza sanitaria e restiamo all'argomento nel corso del consiglio svolto in videoconferenza ha contrattaccato il sindaco Travaglini la maggioranza ha bocciato la mozione sulla sistemazione di un'antenna di telefonia mobile in un'area interna alla Marina di Montenero mozione nella quale la minoranza annunciava ipotetici danni alla salute pubblica il consiglio comunale aggiunge il primo cittadino è stato convocato regolarmente in videoconferenza alcuni consiglieri di minoranza hanno voluto collegarsi dalla sala consigliare stessa ciò è stato consentito a loro ma non al pubblico da Montenero passiamo ci spostiamo a Termoli il comune pubblico e il bando per l'assegnazione di borse di studio a favore degli studenti degli istituti superiori vediamo come fare la domanda l'anno scolastico seppur con qualche non piccola difficoltà sta per volgere al termine tuttavia il comune di Termoli ha pensato in qualche modo di venire incontro alle esigenze degli studenti premiandoli e stanziando delle borse di studio ad hoc in favore della loro formazione a renderlo noto l'assessorato alle politiche sociali dell'ente che si è prodigato per la creazione di un bando ad hoc per promuovere l'attività si tratta di contributi a favore di quegli studenti delle scuole superiori di secondo grado per l'anno 2019-2020 potranno accedere quindi al beneficio quei ragazzi il cui nucleo familiare sia in possesso però del documento ISEE con valore non superiore 10.632 euro le istanze dovranno quindi essere compilate sull'apposito modello di richiesta allegando poi documenti di richiesti nell'allegato le richieste potranno essere inviate anche tramite posta PEC all'indirizzo protocollo chiocciola pec.comune.termoli.cb.it o direttamente all'ufficio protocollo del comune entro e non oltre il 3 luglio del 2020 il comune stesso provvederà in seguito alla formulazione della graduatoria dei richiedenti e la trasmetterà direttamente alla regione molise che procederà poi alla formulazione della stessa al fine di consentire al mio ora al ministero dell'istruzione e dell'università di poter assegnare agli aventi diritto le borse mediante un apposito bonifico bancario la celebrazione domani della diciannovesima giornata del sollievo assume quest'anno un significato importante il presidente della giunta Donato Toma ringrazia il personale dell'ospis madre Teresa di Calcutta di Larino che ha ricevuto tra gli altri riconoscimenti il prestigioso premio Gerbera d'oro che la formazione Ghirotti e la conferenza delle regioni assegnano ogni anno ad aziende sanitarie e istituti di ricerca che si siano particolarmente distinti nelle cure palliative nella terapia del dolore al dottor Mariano Flocco e ai suoi collaboratori la gratitudine per il lavoro che svolgono con abnegazione professionalità e umanità io sto a distanza questo è il nome scelto dall'amministrazione comunale di Campobasso per una campagna di sensibilizzazione sul distanziamento sociale saranno i giovani dell'Unitalsi i protagonisti di una campagna di informazione e sensibilizzazione messa a punto dai vertici del comune di Campobasso sulle regole del distanziamento sociale in questo periodo che vede la riapertura dei pubblici esercizi cercheremo di sensibilizzare ancora di più la popolazione attraverso anche dei gadget come questa maglietta simpatici o attraverso delle spille nella speranza che i ragazzi ma non solo possano capire fino in fondo qual è davvero l'emergenza e nel rispetto più totale delle regole saremo in due punti uno per il corso e un altro a Piazza della Maddalena in ovviamente diverse squadre le informazioni sono sicuramente quelle anti-covid magari spiegati tra ragazzi e ragazzi potrebbero avere un effetto maggiore spiegati da ragazzi della loro età potrebbero capire che è difficile anche per noi che stiamo appunto donando un servizio sia per noi che doniamo un servizio sia per loro che invece vogliono uscire e divertirsi perché quello vogliamo tornare a farlo tutti però se non rispettiamo le regole questa cosa credo che non accadrà poi così facilmente la campagna denominata io sto a distanza si avvale di una linea di comunicazione che vuole richiamare gli elementi della tradizione come i misteri e lo stesso dialetto campobassano un messaggio che abbiamo voluto scegliere partendo dal nostro dialetto quindi qualcosa che fosse immediato e che possa diventare magari anche uno scherzo per ricordarci a vicenda che per tornare una socialità piena come quella che eravamo abituati a vivere però adesso dobbiamo rispettare ancora per un po' le regole quindi la campagna io sto a distanza però nel nostro dialetto è che diventa diciamo anche divertente non è niente di restrittivo perché è chiaro che i controlli ci saranno e le forze dell'ordine sono impiegate quotidianamente soprattutto nei weekend a far rispettare le norme però se tra di noi troviamo un modo carino anche divertente per ricordarci le regole qui abbiamo voluto appunto che fosse il diavoletto a tenere a distanza la tunzella diciamo ci ricordiamo che per adesso dobbiamo fare ancora attenzione e restiamo alla città capoluogo dagli inizi del prossimo mese riapriranno i mercati di Corso Bucci e via Gambieri in orario mattutino vediamo le novità i mercati di Campobasso possono riprendere le attività rispettivamente dai prossimi primo e tre giugno a decretarlo attraverso una ordinanza all'amministrazione di Palazzo San Giorgio la stessa ha infatti considerato le caratteristiche l'uso la localizzazione e l'ampiezza degli spazi disponibili oltre che il numero limitato di avventori che solitamente frequenta le aree in questione prima di assumere tale decisione tuttavia il lavoro mercatale è condizionato all'osservanza di specifiche prescrizioni dovrà essere mantenuto un adeguato spazio per l'attesa dei clienti con distanza di almeno un metro l'uno dall'altro gli acquirenti dovranno essere serviti uno per volta sempre nel rispetto della distanza interpersonale ciascuno dovrà essere munito di mascherine e dovrà altresì trattenersi all'interno dell'area per il tempo strettamente necessario agli acquisti l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive i singoli posteggi dovranno essere separati fra l'oro da almeno un metro e cinquanta vietata la somministrazione e il consumo di generi alimentari sul punto di acquisto e nell'intero spazio al momento della chiusura del mercato tutti gli operatori commerciali saranno obbligati a ripulire l'area di vendita ancora prima dovranno igienizzare le attrezzature a disposizione della clientela dovranno esserci guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia la merce l'orario dei mercati resta invariato 8.14 E sempre a Campobasso domani ci sarà il ritorno alla chiesa dei monti della statua della Madonna il ritorno avverrà alle ore 19 subito dopo la celebrazione della messa di ringraziamento nella solennità di Pentecoste il trasporto sarà effettuato su un furgoncino per permettere all'antica statua di essere portata con estrema sicurezza si trasforma in appuntamento online l'iniziativa di Nonno Ascoltami che da alcuni decenni ha fatto prevenzione nelle piazze per i problemi legati alla qualità dell'udito L'appuntamento è per venerdì 19 giugno 2020 dalle ore 10 quando in diretta streaming su Facebook dall'auditorium Petruzzi di Pescara sarà organizzata l'iniziativa di Nonno Ascoltami ripartiamo insieme il percorso di prevenzione che interviene soprattutto con le persone anziane attraverso visite mediche ed incontri specifici sulla qualità dell'udito la manifestazione trova infatti una nuova veste e modalità comunicativa abbandona la sua usuale proposta e per la prima volta da quanto si organizza nelle piazze italiane si avvale della forma del social della proposta sul web la situazione scaturita dal fatto che come sottolineano gli organizzatori da qualche mese abbiamo cambiato le nostre abitudini per proteggere noi stessi e gli altri in modo particolare la generazione degli anziani una generazione che è stata l'osservato speciale dell'emergenza sanitaria a volte protetta ma troppo spesso trascurata viene da qui l'edizione 2020 di Nonno Ascoltami un evento che si avvarrà dei maggiori esperti e dei più rinomati ambasciatori dell'associazione Onlus A conclusione dell'incontro con i dirigenti del Ministero dell'Istruzione non raggiungendo alcun accordo soddisfacente le organizzazioni sindacali della scuola hanno indetto lo sciopero per l'intera giornata dell'8 giugno di tutto il personale per i sindacati la ripartenza ha necessità di investimenti straordinari e non certo di piccoli aggiustamenti siamo adesso alle previsioni del tempo temporali e schiarite oggi sul Molise le temperature sono comprese tra i 10 gradi la minima a campo basso e i 16 gradi la massima a termoli venti moderati provenienti da nord-ovest poco mosso e il medio adriatico mal tempo nelle aree interne e valori climatici in rialzo domani sulla regione fausto scarpitti 45 anni di Sernia si prepara si prepara si prepara all'avventura nella A1 di calcio A5 con l'acqua e sapone di Pescara un'opportunità per il tecnico molisano per fare il definitivo salto in avanti e consacrarsi nel massimo torneo nazionale di Futsal dopo aver guidato alla promozione il quintetto della sua città Fausto Scarpitti si è ripetuto sulla panchina del Grassano in Lucania tutto pronto per la 27esima edizione del torneo internazionale del Corpus Domini di Calcio Under 15 torneo a caratura internazionale con partite giocate quest'anno online da casa sulla piattaforma FIFA 20 all'appello 11 club di 4 nazioni diverse l'ACLI Campobasso Teramo Frosinone Bari Pescara Ponte Dera Monopoli la società belga del Leuven i tedeschi del Ludwig Schaffener e gli statunitensi del Cleveland ed infine il giovane tecnico Isernino Antimo Martino dopo aver riportato la fortituto Bologna nella A1 della pallacanestro maschile italiana firma per il Reggio Emilia al 41enne allenatore l'obiettivo di riuscire a centrare anche con la casacca della Reggiana la promozione della massima serie e questa era per noi la nostra ultima notizia grazie per averci seguito a voi tutti un buon fine settimana e la nostra ultima notizia